Le ASICS Nova Blast 4 sono ideali per tutti i runner con una buona tecnica di corsa alla ricerca di ammortizzazione e dinamicità sulle medie e lunghe distanze nelle corse di tutti i giorni. Il nuovo modello con pianta più ampia garantisce maggior comfort migliorando la calzata e il fit poiché l'automaia in mesh traspirante in maglia rinforzata assicura una maggiore elasticità, traspirabilità e durabilità riducendo il movimento della linguetta. Le Nova Blast 4 offrono il giusto mix di leggerezza e reattività grazie all'intersuola Flight Foam Blast Plus Eco in schiuma ancora più sostenibile e con maggior rimbalzo e al rocker più accentuato che permette transizioni più fluide ed efficienti. Anche la suola ha subito un piccolo restyling assicurando ora maggiore aderenza e durabilità per una trazione superiore in qualsiasi condizione climatica che sia asciutto o bagnato. Inoltre i dettagli riflettenti migliorano la visibilità in condizioni di scarsa luminosità. Consiglio le Nova Blast 4 a tutti i runner che cercano scarpe veloci e performanti da utilizzare sia in allenamento che durante il giorno della gara, ideali dalla 10 km alla maratona.